Il dado è tratto! Ciao, che fai? Mannaggia, ciao Simo! Sono così triste perché stavo lanciando i dadi per vedere in quanti anni mi libererò dalla cellulite ed è uscito 6. Vuoi che provi io per te? Sì, va bene. Ah beh, un anno, dai, grazie Simo! Ma che magia hai fatto per riuscirci al primo colpo? No, non un anno, un mese! E senza magia, con il mio sistema Cellulift. Ciao amici, avete visto lo scorso video dove ho presentato il metodo Cellulift? È un sistema ideale per eliminare la cellulite in modo semplice, veloce e soprattutto definitivo. Beh, io no, ero in palestra, ero nella gabbia della MMA per combattere contro i cuscinetti! Per chi non lo avesse visto, il link è in descrizione o nella piccola i in alto. È importante guardatelo perché ho presentato la mia rivoluzione nella lotta contro la cellulite. È ora di dire basta alle soluzioni provvisorie che non risolvono il problema della cellulite. Tante donne mi raccontano che purtroppo le comuni soluzioni anticellulite non funzionano. Contro pelle a buccia d'arancia, cuscinetti su cosce e glutei, pelle flaccida e molle, che antipatica, edemi e gonfiori diffusi, culo de cheval e bozzetti e inestetismi. Il motivo per cui questi rimedi non funzionano è semplice. La maggior parte agisce sui sintomi visibili ma non affronta le cause della cellulite. Combattere la cellulite senza affrontare le cause è come cercare di aggiustare un tubo che perde acqua con un cerotto di carta. Forse tiene per un po', ma se non si aggiusta, il tubo tornerà a perdere presto acqua. Ma allora perché ci dicono di mettere i cerotti su questo diluvio di cuscinetti? Forse perché vendere creme o trattamenti è più facile che passare anni e anni a studiare soluzioni come ho fatto io. E da questo mio studio è nato il sistema Cellulift di cui ho parlato ieri. Attenzione perché lo sto proponendo a un prezzo scontatissimo per tutte le amiche del canale e i followers dei miei video. In questi giorni dopo l'altro video in tantissime mi avete iscritto privatamente per saperne di più. E ho deciso di fare questo video per rispondere alle domande più frequenti che sono quelle che poi abbiamo in mente tutti. Intanto se vi piace l'idea di eliminare la cellulite velocemente in modo naturale e olistico, mettete mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Cosa contiene il video corso? Contiene 7 video tutorial anticellulite esclusivi mai pubblicati prima. Con l'automassaggio elimina cellulite, veramente efficace da fare a casa con l'olio che ti indicherò. L'allenamento brucia cellulite elaborato apposta da seguire via video per tonificare e rassodare tutto il corpo. La tecnica di rilassamento per eliminare il cattivo ormone dello stress che provoca infiammazione e ritenzione idrica. I rimedi naturali, le erbe e gli integratori migliori e come prenderli per fare davvero in modo che funzionino benissimo su di te. L'alimentazione consapevole con i trucchi detox e anticellulite da seguire senza privazioni e senza rinunce. La cura dell'intestino per avere un intestino pulito che non genera più tossine. Le strategie e le buone pratiche da seguire a casa dedicando anche solo pochi minuti al giorno. Come si accede a tutto questo materiale? Una volta effettuato l'acquisto riceverai automaticamente una mail con i tuoi dati di accesso, la tua password e potrai accedere alla tua area riservata con i 7 tutorial esclusivi con tutto il tuo video corso che potrai vedere ogni volta che vuoi sul tuo computer e anche sul tuo cellulare. Ma quanto tempo devo dedicare per avere risultati? Per avere risultati subito l'ideale sarebbe dedicarti dai 5 ai 30 minuti al giorno, scegliendo tra le varie tecniche, il massaggio, il workout, il rilassamento, le strategie da fare a casa, l'idroterapia. Puoi fare un po' di tutto ma se non riesci tutti i giorni, almeno 2 o 3 volte alla settimana farà comunque già una grande differenza e si vedrà molto presto. In quanto tempo posso aspettarmi dei risultati? Un giorno alla volta vedrai che la pelle diventa più liscia, ti sgonfi con l'alimentazione detox, il muscolo si tonifica con gli allenamenti e la cellulite si riduce con l'automassaggio. Oltre a tutto questo, la tecnica di rilassamento ti aiuta ad amare e ad accettare il tuo corpo, eliminare ogni tipo di stress per cui sarai più calma e serena. La sinergia di tutte queste buone abitudini normalmente porta risultati visibili già nel giro di qualche settimana. Hai parlato di bonus in regalo? Quali sono questi regali fantastici? Sono tre videocorsi di cucina naturale con ricette esclusive della vegan chef Serena Babbo che collabora con me da più di 20 anni ormai. Allora, questi videocorsi riguardano la sua famosa base segreta con cui creare dei piatti veramente saporiti e buoni, gustosi, senza usare soffritti o condimenti troppo pesanti. Poi due ricette di vellutate di verdura con l'aggiunta di spezie che le rendono detox e altre due ricette per rendere i contorni di verdura originali e gustosi in maniera da poterli offrire e fare mangiare molto felicemente a tutti in famiglia. In più, il mio libro manuale moderno di estetica olistica in versione ebook. È un libro veramente bello, pieno di consigli pratici e tutti i rituali di bellezza e le ricette per tutti i tipi di pelle e per ottenere la forma fisica in modo veramente olistico e naturale. Che differenza c'è con gli altri programmi là fuori? Guarda, che io sappia, non c'è niente di simile. Per questo ho voluto crearlo io. Ce n'è davvero bisogno perché la cellulite si combatte solo in sinergia, eliminando le cause e ottimizzando la salute naturale di tutto il corpo in modo fisiologico. Questo fa dire addio alla cellulite in modo veloce e definitivo. Ebbene, questa era l'ultima domanda, ma se ne avete altre a cui non ho risposto potete scrivermi privatamente all'indirizzo mail che vedete qui sotto. Tutte queste informazioni comunque le trovate nella pagina dedicata al videocorso. Anche lì il link è in descrizione. Andate a vedere perché è davvero completa, c'è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che ho preparato anche dei regali, dei doni, dei bonus speciali per chi acquista il videocorso per eliminare la cellulite in modo naturale. Ma attenzione, non saranno disponibili per sempre. Quindi non lasciatevi scappare questa occasione. E ora condividete questo video per aiutare tutte le donne che sono bloccate nella loro lotta contro la cellulite, non riescono a ottenere dei risultati. E iscrivetevi al canale per seguire tutti i nuovi video e i miei consigli per vivere meglio. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! 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 Grazie a tutti.